Musica Oggi presentiamo tutte le attività di ricerca che il Consorzio sta portando avanti nel suo percorso nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica e in questo percorso il CREA è più che un partner, diciamo ci siamo quasi sposati con questo ente di ricerca che è un ente del MASAF, quindi del Ministero dell'Agricoltura proprio per cercare tutte quelle attività che possano innalzare il livello della sostenibilità della nostra denominazione quindi il nostro obiettivo è proprio quello di dare durabilità alla nostra denominazione per darlo alle prossime generazioni nei modi migliori rispetto a quelli che abbiamo ricevuto noi quindi benvenga questa collaborazione, sarà duratura anche per i prossimi anni, abbiamo numerosissimi progetti da portare avanti nei diversi ambiti e quindi la collaborazione diventerà sempre più stretta e più proficua, si spera, nei prossimi anni